Mi sono fermato a una pasticceria Nobel per provare questi due pasticcini, uno al pistacchio e una crema di latte. Voglio vedere insieme a voi come sono. Si presentano così. Questa sicuramente è tutta di pistacchio, deve essere molto buona, ovviamente. E questa è una pasta sfoglia ripiena con crema di latte. Andremo a scoprirlo. Primo passo. Questa è buona proprio. Questa la provo, raga. È veramente buona. Ora proviamo l'altra. Damogli un bel morso, va. Ancora siete poca crema di latte. Se sente. Non è proprio al massimo che ripiena. Però è buona. Un po' si vede, un pochetto. Eccola qua. Meglio quella al pistacchio. Però devo dire che la pasta sfoglia è molto molto buona. Quindi, un bel 9 per il pistacchio. E questa un bel 7 e mezzo. Un saluto, raga. Guarda che casino ho fatto. Molta gente giro, sai, in macchina non ci fanno niente. Sono la sporcano. Io poi sporco qua, guarda la pagina. Dai, raga. Buon pomeriggio. Un bacione. Buon pomeriggio. Chiun?